Mi vedete tutti? Mi sentite? Molto bene! Questo trimestre vi insegnerò come duellare. Permettete che vi presenti il mio assistente, il professor Piton. Ora, Harry Potter, ti dispiace venire avanti? Iniziamo la sfida dell'incantesimo Expelliarmus. Ciò che devi fare è trovare il libro dell'incantesimo Expelliarmus, nascosto dietro il reto. Una volta entrato in possesso del libro, l'incantesimo Expelliarmus sarà tuo e potrai utilizzarlo come meglio credi. Grazie. 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 Grazie.